Amici di Teledeon, bentrovati a questo nuovo appuntamento con speciale interviste. Oggi ci occupiamo di un argomento particolare che piacerà moltissimo a chi è appassionato di storia locale, perché parleremo dell'importanza che ha l'archivio di Stato nel racchiudere la storia, la cultura, i fatti accaduti in un territorio in un periodo storico enorme. Pensate più o meno ufficialmente 150 anni, ma in realtà molti molti di più. Parliamo forse anche di 4 o 500 anni di storia. Per farlo abbiamo invitato uno dei veri protagonisti di questa storia del nostro territorio. Parliamo di Michele Grimaldi, grazie per essere con noi innanzitutto, archivista di Stato, già direttore dell'archivio di Stato di Bari, con le sue sezioni di Trani e Barletta o di Barletta e Trani. È ugualissimo. Non entriamo subito nel campanile perché altrimenti non ne siamo più. Questa era chiaramente una battuta per tutte le polemiche che ci sono state sulla presenza dell'archivio di Stato a Trani e a Barletta, ma l'importante è che ci sia. I cittadini sanno che possono contare su questa presenza, che non tutti riescono a percepire perfettamente per quanto importante sia. Oggi cercheremo di dimostrarlo con dati di fatto. Allora, partiamo subito togliendoci un problema, che è appunto quello della inaugurazione della nuova sede per Barletta. Perché è un problema? Perché Barletta in questo momento è allocata, la sezione di Barletta è allocata in un edificio sicuramente utile in tutti questi anni, ma ormai è come una camicia strettissima rispetto alle esigenze reali. E poi non può esserci un archivio di Stato come si deve all'interno di un palazzo moderno. La cultura che racchiude, la storia che racchiude, devono essere in un contenitore adatto. A Trani c'è il palazzo Valenzano, che è un vero patrimonio storico del paese. Lo stesso deve essere per Barletta. A che punto siamo? Allora, siamo al punto che abbiamo terminato ogni tipo di intervento strutturale, che era la cosa più importante e più difficile da fare su un immobile datato 1100. Quindi siamo in pieno medioevo. E dove si trova? In via Manfredi, cioè in quella che è la direttiva più importante nell'antichità per Barletta, cioè quella strada, oggi si chiama via Cialdini, ma che prima era strada delle carrozze, dove erano ubicati tutti i palazzi e dove sono ubicati, tutti i palazzi nobiliari della città e dove oggi c'è il palazzo della prefettura, cioè il monte di pietà e poi subito dopo ci siamo noi con... Palazzo della Marra e poi dopo... Esatto, e subito dopo perché quella era la strada dei conventi. Infatti sia il nostro che quello prima, cioè quello di San Gaetano e quello ancora prima, quello dove era allocata prima l'ufficio anagrafe e dell'ex convento di Santa Maria della Vittoria, quindi una delle strade centrali, le arterie centrali di Barletta Antica e quindi ubicata nel pieno centro storico della città in un palazzo bellissimo, antichissimo, che in origine era chiamato Sancti Lazzari delle Prosis. È stata una idea formidabile a quell'epoca, ho detto anno 1000-1100, di creare un ospedale per coloro che tornavano dalla Terra Santa per le famose crociate malati di lebra e quindi era il primo ospedale specializzato nella cura della lebra, proprio perché da Barletta partivano tutti coloro che andavano in Terra Santa. Queste notizie sono custodite immagino anche nell'archivio di Stato. Ovviamente noi abbiamo trovato una pergamena dell'anno 1100 dove si parla di Sancti Lazzari delle Prosis. Infatti di fronte alla nuova sede c'è una strada che si chiama Via San Lazzaro, proprio perché prende il nome da quel palazzo convento che poi è stato gestito nei secoli da diversi ordini religiosi, San Giovanni di Dio, poi i Fatebene Fratelli, i Teatini, quindi tutti ordini religiosi che curavano l'immobile e ciò che conteneva dal punto di vista anche dell'utilizzo per la popolazione. Quindi importantissima struttura che si va a collocare in un quartiere molto degradato dal punto di vista del servizio culturale. Praticamente non c'è nient'altro lì. Esattamente. Ecco, per chiudere questo discorso strutturale possiamo dire che entro fine anno potremmo arrivare alla svolta? Io ho la fortuna di, insieme con il nuovo direttore dell'archivio di Stato, Adriano Buzanca, che si sta, l'avvocato Buzanca, che si sta prodigando in maniera particolare per poter finalmente dare, aprire all'utenza questo nuovo servizio culturale. Abbiamo la fortuna su Roma di avere la dottoressa Sciri, che è la dirigente del servizio primo del nostro ministero e della direzione generale, che si stanno veramente spendendo per aprire. Noi abbiamo l'ultimo problema, che è quello dell'allaccio all'energia elettrica, perché dopo di che noi abbiamo terminato, apriremo e saremo sicuramente subito, partiremo nel momento dell'inaugurazione. Il giorno dopo noi saremo operativi, potremo aprire all'utenza e tutti potranno venire da noi per qualsiasi motivo. Ecco, prima di entrare nel perché, nel discorso del perché la gente si deve rivolgere all'archivio di Stato, completiamo la questione delle strutture, trasferendoci a Trani per un attimo, perché nei giorni scorsi, ormai è passato quasi un mese, c'è stato un importante evento che ha riguardato proprio Palazzo Valenziano, all'interno del quale, oltre ad esserci l'archivio di Stato, è stato anche inserito il nuovo ufficio della soprintendenza ai beni archeologici di Foggia. Foggia Bat. Foggia Bat, che ha destinato proprio un ufficio all'interno di questo palazzo, che ha un significato particolarissimo. Io debbo ringraziare innanzitutto, e permettetemelo, la Direzione Generale Archivi, che ha dato il suo benestare affinché venissero concessi dei locali di proprietà dell'archivio di Stato, della sezione di Trani, alla soprintendenza. Perché, e questo va dato merito all'architetto Anita Guarnieri, che è il soprintendente, ha avuto questa, veramente questa idea giusta di coprire un settore come quello della Bat con città importantissime. Andrea, Barletta, Trani, che sono veramente il cuore della soprintendenza Foggia Bat. Perché se parliamo di insediamenti culturali... anche Canosa, per carità. Ma ovviamente, e Canosa ormai sta assurgendo e vorrebbe una propria soprintendenza archeologica, perché con tutto quello che ha se lo meriterebbe assolutamente. E quindi la Direzione Generale ha dato questo benestare e noi, proprio perché la carissima amica Anita Guarnieri cercava dei locali su Trani per poter insediare questa sede staccata o sportello che dir si voglia della soprintendenza, mi ha proposto questa cosa. E io, all'epoca, direttore dell'archivio di Stato, non ho esitato un attimo, anche perché con il duplice scopo, sì, di aprire un punto importante di riferimento per la soprintendenza su Trani, ma anche per rivitalizzare quello che è Palazzo Valenzano. Perché, capite bene, dopo 300 anni i problemi strutturali vengono fuori. Ed avere in casa la soprintendenza, che è l'ufficio addetto a sistemare tutti questi immobili. Quindi questa doppia scusa di poter fare delle cose utili, sia ovviamente per l'utenza, ma soprattutto per chi agisce in quel palazzo, è stata una scelta non azzeccata ma di più. E dimostra che 40 anni di servizio e più portano anche a riflessioni utili per tutto il territorio. Ma assolutamente, se si vuole, nell'amministrazione dello Stato, avere dei riscontri che non siano molto lunghi nel tempo, bisogna creare delle sinergie utili tra i diversi uffici, anche dello stesso ministero, perché noi e soprintendenza ovviamente siamo lo stesso ministero, l'archivio e la soprintendenza. Ovviamente questa sinergia utile, positiva, porta a dei risultati immediati. Noi l'abbiamo fatto questa cosa in meno di due anni, quando in genere per arrivare a queste cose passano non due anni, passano dieci anni minimo. E quindi bisogna dare questo riconoscimento, ripeto, alla direzione generale, all'architetto Anita Guarnieri e in minima parte anche a me che ho avuto questa idea di fare una cosa molto veloce. Ecco, e allora risolti questi problemi, avendo dato qualche informazione utile ai cittadini, anni. Adesso viene la parte più importante di questa trasmissione, che è quella di cercare di far capire ai nostri telespettatori quanto siano importanti gli archivi di Stato. Dicevamo, raccontano in realtà e racchiudono al proprio interno tutto il patrimonio di conoscenze storiche, culturali, degli avvenimenti concreti, reali, che riguardano la vita delle nostre famiglie negli ultimi secoli. Ho detto prima almeno 150 anni in realtà dall'unità d'Italia, ma andando indietro nel tempo forse cominciamo ad avere documenti del 1500-1600. Allora, noi abbiamo il documento più antico su Barletta, è datato 1587, che è una pergamena, un testamento. E poi dopo ne parleremo anche di questo, perché ovviamente dai documenti noi ricaviamo quella che era l'effettiva situazione delle comunità in quei periodi. Su Trani abbiamo i protocolli notarili che partono dalla fine del 1400, quindi sono ovviamente più di 500 anni. Quindi sono tutte quante delle situazioni, per non parlare poi di Bari, perché Bari ha anche lì pergamene dal 1400-1300 sino ai giorni nostri. Quindi coprono un arco di tempo enorme con un enorme insieme anche insieme di documenti. Che non sono teorici. No, no. Allora io faccio sempre questo esempio. Fra Bari, Barletta e Trani noi potremmo mettere uno dietro l'altro delle scaffalature che vanno da Barletta sino a Bari, perché abbiamo la bellezza di circa 50 chilometri di scaffalature, di documenti. Noi parliamo di documenti. Che tipo di documenti? Parlava prima dei documenti notarili, quindi tutte le compravendite immobiliari. Assolutamente. Ma prima, allora, oggi noi i notai fanno per lo più quello, cioè compravendite, palazzi e roba varia, testamenti. Ma all'epoca qualsiasi cosa doveva passare dal notaio che era l'unica entità giuridica che poteva mettere il sigillo su qualsiasi tipo di movimento. Ma ovviamente gli archivi conservano tantissimo materiale. Io porto anche quest'altro esempio. Noi siamo stati, gli archivi di Stato, l'unico ufficio, non del Ministero, ma di tutta quanta l'amministrazione statale, aperto durante il primo lockdown, quello più rigido, perché il nostro direttore generale dell'epoca, la dottoressa Buzzi, ci disse che eravamo diventati volano dell'economia nazionale, per un motivo semplicissimo, perché noi conserviamo gli atti del genio civile, che a sua volta era l'ufficio che dava i famosi calcoli statici, che servono ancora oggi per ottenere il famoso 110% per fare le ristrutturazioni degli immobili. Noi siamo stati aperti durante il lockdown perché veniva un sacco di gente che voleva questi benedetti calcoli statici. Ed il direttore generale ci disse siamo diventati volano dell'economia nazionale come archivi e quindi è un'altra dimostrazione. Un'altra cosa più sfiziosa è quella che è successa dopo che abbiamo fatto l'apertura di Domenica di Carta, l'ultima Domenica di Carta, ma è una cosa che va avanti ormai. È stata la prima Domenica di Ottobre, quindi, che è stata anche documentata benissimo da voi. E lì è scoppiata di nuovo la mania della genealogia, famosissima. straordinaria. Perché ormai ci scrivono da ogni parte, non solo della nostra regione, ma d'Italia e di fuori Italia, che hanno questa curiosità di sapere da quale, come dico io, da quale albero proveniamo. Spieghiamo bene questa cosa perché all'interno degli uffici dell'archivio di Stato, di fatto, proprio per effetto di tutti i documenti notarili e documenti anche comunali, dell'amministrazione in genere, si può risalire alla storia genealogica di ogni famiglia, praticamente. Ma non solo quello, ma anche di dove abitavano. Perché, per esempio, Setrani ha come suo distintivo dal punto di vista dei documenti la parte giudiziaria, Barletta ha quella amministrativa, il che vuol dire conserva, per esempio, tutto quanto il catastro terreni e fabbricati dell'ex provincia di Bari. Quindi si va da Bari sino all'Ocorotondo, l'ultimo comune della provincia di Bari, dove si può ricostruire come si fa per le famiglie, si ricostruisce la storia degli immobili. Del terreno, del palazzo. Si parte da oggi e si va indietro, il termine tecnico è all'impianto, cioè dal momento in cui viene registrato un immobile oppure viene censito un terreno. Quindi facciamo un esempio, un palazzo storico costruito nel 1600, andando all'archivio di Stato si può vedere e risalire a tutti i proprietari successivi dal momento della costruzione fino ad oggi. Si chiama visura, una visura catastale che ti porta a sapere chi sono i vari proprietari, perché su un volume catastale ci sta il carico e lo scarico, cioè ci sta quello che compra e quello che vende e sullo scarico trovi, come abbiamo detto prima, i dati ed i numeri utili per cercare, per esempio, un atto notarile dove è stata registrata la vendita oppure dove è stata registrata il passaggio per testamento. si va a cercare anche quello, perché come abbiamo detto Trani conserva gli atti notarili, quindi è tutto collegato. Ecco perché io quando dico delle inutili, inutili, diatribe per, perché i due archivi Barletta e Trani sono complementari, assolutamente, non è che uno occupa lo spazio di un altro e viceversa. Anzi, devono essere presenti ambedue sul territorio perché hanno una complementarietà proprio da quel punto di vista. Se io non ho Barletta per avere i dati per andare poi su Trani, noi infatti, tantissimi ricercatori, vengono da noi e dicono e ora dovete andare a Trani. Quindi è una fase di collegamento fra i due archivi, quindi nessun problema. E poi, ovviamente, ci sono tantissimi, stavamo parlando degli alberi genealogici, proprio perché l'idea geniale di Napoleone nell'808, quella di istituire lo Stato civile, è stata veramente geniale dal punto di vista di una ricerca mirata, perché si partiva dal discorso che prima di Napoleone, prima dell'809, inizio dello Stato civile, primo gennaio, perché il decreto è di novembre dell'808 di Napoleone, prima tutto veniva gestito dalle parrocchie. Solamente che la piccola, enorme differenza, era che le parrocchie censivano la data del battesimo e non quella della nascita. Non solo, ma rimaneva lì perché mica uno si poteva andare a consultare ogni singola parrocchia. Assolutamente, ma non è tanto quello quanto la ricchezza di dati dello Stato civile rispetto a quella delle parrocchie. È enorme. L'atto semplice di battesimo era, si è presentato Tizio e Caglia che hanno effettuato il battesimo del bambino. Basta, punto. Non si aveva nessun altro dato. Invece, chi è venuto e chi conosce, sa bene che su un atto di Stato civile ci sono una miriade di informazioni che ti danno la possibilità di allargare la ricerca dal nome e cognome sino alla strada. Puoi ricostruire anche la storia di una strada attraverso gli atti di Stato civile. Quindi, importantissimo fondo che ti dà una miriade veramente di informazioni, come anche le professioni, come anche tanti altri. Noi oggi stiamo parlando di tante cose, per esempio i ruoli matricolari. Sono la storia militare delle nostre comunità e di questi tempi noi sappiamo benissimo che tipo di ritorno abbiamo quando andiamo nelle scuole e parliamo di ragazzi di vent'anni che hanno sacrificato la loro vita per l'unità nazionale. Ultimamente il nostro presidente Mattarella ha ribadito assolutamente ricordare, perché se non ricordiamo non avremo nessun futuro. Noi stiamo vedendo che, io ripeto sempre una frase di Cicerone che diceva la storia è maestra di vita, ma ha detto qualcun altro, ma ci deve essere qualcuno che vuole imparare da quella maestra, perché se non impariamo noi vediamo quello che succede oggi, non avremmo nessun tipo di riscontro da parte di nessuno. Quindi i ruoli matricolari è un'altra fonte di notizie. Lì abbiamo anche i dati fisici, perché lì abbiamo l'altezza, il torace, i capelli di che colore, gli occhi, tutto. Cioè, se non c'è la fotografia, noi ce la creiamo attraverso i dati che ci sono, somatici. Quella è un'altra fonte, per non parlare poi del servizio che porta a riconoscimenti tipo la medaglia d'onore che viene concessa dal presidente della Repubblica a chi è stato prigioniero nei campi di lavoro subito dopo l'8 settembre. Medaglia che viene data il 27 gennaio, in occasione del giorno della memoria, viene data ai parenti di questi militari che sono un riconoscimento importantissimo che viene dato e concesso assolutamente e solamente dietro presentazione del foglio matricolare che conserviamo noi negli archivi. Ecco, per tornare invece all'albero genealogico, a me fa divertire tantissimo, alcune storie, possiamo dare qualche aneddoto per far capire che cosa sta avvenendo in questo periodo. Per esempio, a Barletta, un paio di anni fa, al massimo, forse anche meno, arrivò la notizia che il presidente del Parlamento, o meglio, del governo, del governo, il premier, come lo chiamano in Inghilterra, ecco, il premier dell'Australia era di origine barlettana. È successo di tutto, ci hanno chiamato di domenica perché volevano avere notizie sul papà del premier, un certo albanese, infatti il premier si chiama albanese e sono arrivate truppe televisive da ogni dove perché volevano avere questo tipo di riscontro, che hanno avuto ovviamente, perché il papà del premier era uno steward che operava sulle navi da crociera, che aveva incontrato questa bella ragazza, mamma del premier, ed era nato, infatti, riconosciuto ovviamente, il premier albanese. È successo di tutto, così anche per il patron di Luxottica. Quando è morto, tutti sono andati alla ricerca del paese di origine, si diceva Trani, si diceva Barletta, del vecchio tipico nome delle nostre zone, ma abbiamo scoperto che era di Biceglie. Ecco, quindi la diatriba, se era Tranese o se era Barlettana, è stata vinta da Biceglie. Infatti è la mamma di Spinazzola, ma comunque della zona Bat. Ecco, per esempio, proprio in occasione dell'ultima manifestazione che avete fatta ad ottobre, quella sulla carta, è venuto fuori anche l'albero genealogico di uno degli atleti più straordinari della storia del nostro territorio e probabilmente anche del mondo. Parliamo di Pietro Mennea. Ecco, Pietro Mennea ha una storia anche lì molto particolare che avete ricostruito. Noi siamo andati indietro fino alla fine del 1700, ovviamente, ma tutto quanto si basava sul discorso del dove è nato, cioè c'era stato questo fraintendimento sulla via di nascita di Pietro Mennea. Ovviamente è una cosa che io ripeto ormai da tantissimi anni, io mi baso esclusivamente sugli atti. Sulle prove documentali. Viene detto ovunque che fa fede solo ed esclusivamente l'atto di nascita, cioè lì i dati che vengono riportati debbono essere poi quelli che fanno fede. Se poi dopo tutto è diverso, anche sempre in quell'occasione, io ho mostrato, come l'ho mostrato altre volte, il famoso atto di nascita di De Nittis, dove De Nittis al cognome viene registrato tutto attaccato. Quando invece nello stesso atto il padre si firmava Raffaele De Nittis, staccato, ma per la legge e non potrà essere mai cambiato, il De Nittis che è nato ha il cognome tutto unito, non c'è modo di cambiarlo più. Di separarlo. Ecco, e adesso come ci si comporta? Cioè il nome realmente era De Nittis, separato. Però per un errore o del padre nella firma o di chi ha registrato. Assolutamente. Bisogna tener conto che all'epoca non si presentavano i documenti quando si andava a dichiarare qualcuno. Ti chiedevano come si chiama, che nome gli vuoi dare e chi ti andava a dichiarare diceva. Bisogna tener presente che all'epoca, e parliamo 1800, il 90% era analfabeta, non sapeva parlare in italiano ma in dialetto e quindi come veniva proferito e come veniva recepito da chi registrava, che a volte era più analfabeta di quello che stava dall'altra parte, venivano fuori cognomi veramente stranissimi. Io porto l'esempio sempre tipico di Del Piano, che in genere, anche su Trani, su Barletta ce ne sono tanti, ma nasceva il discorso che, un discorso fatto ovviamente in dialetto per farsi capire dalla parte di chi era l'ufficiale danagrafe che chiedeva come te mette, signore, e dall'altra parte volendo italianizzare il cognome da un modo di dire in dialetto, da piano diceva chian, perché in dialetto chiano nasce il cognome di chiano e ce ne sono tanti cognomi. Quindi di chiano in realtà è del piano. Del piano all'origine. È così, a come te mette e dall'altra parte de chian. E quello scriveva di chiano, ma la cosa fondamentale da capire è che una volta che l'ha scritto non si può correggere più. Da lì nascono i cognomi, ma sono veramente delle nascite di nuovi cognomi, come anche il frangentimento di capire. Un daleno non esiste come cognome, ma deriva da di leo, a come te chiamano? Dalè. E quello capiva di leo invece di daleno. E nasce il cognome daleno. Altri cognomi che nascono proprio dai soprannomi, anche questo. Ovvio, quelli sono gli alias, che poi sono di diversi tipi. Sono quelli patronimi, cioè di Vittorio, figlio di Vittorio, o di provenienza di Lecce, di Biceglie, di Molfetta, di Bari, sono cognomi di provenienza. E poi da soprannomi che venivano in antichità, non essendoci il cognome o anche in presenza di cognomi, ma anche oggi, se si va tra le persone più anziane, ci si riconosce attraverso i soprannomi. A Barletta, io porto l'esempio di una famiglia di pescatori che veniva identificata con, ma ancora oggi lo fanno, venne registrata con il cognome Ciuccio. A Barletta, ancora oggi, li chiamano i Ciuccio. Ma questo, uno degli ultimi, ha fatto il cambiamento del cognome, ha cambiato la prima consonante, da C a L, e ora sono gli Ucci. E quindi questi sono veramente, poi ci sono gli estremi che portano a situazioni bruttissime per le quali era contemplato il cambio del cognome, il cambio, lì era obbligatorio, come quello che abbiamo trovato, perché erano contro la decenza, di, scusatemi, merda, cambiato con una L, lerda. Infatti ci sono cognomi lerda, come anche l'ex giocatore del Torino, lerda, quelli era un fatto di decenza che dava un modo di cambiare. E poi ci sono la miriade di cognome inventati per i trovatelli, cioè quelli che venivano lasciati alla ruota, che poi la ruota famosa che tutti hanno sentito era un portavivande sulla facciata dei conventi di clausura, dove le suore, che non potevano avere contatti con l'esterno, avevano messo questa porta girevole dove veniva messo tutto quello che serviva per la suora, per il convento. Lì venivano lasciati i bambini indesiderati. Ecco perché si parla della ruota e anche degli esposti, cioè venivano messi là esposti alle intemperie, a tutto quello che era. Ecco la nascita del cognome, esposito, sposto e tutto quanto. E invece chi rimaneva legato alla ruota, che erano i tre ruote, i tre ruotoli? Ma era anche quello, ma era comunque un discorso di invenzioni. Uno dei cognomi inventati per un trovatello che abbiamo noi è Ettore Fieramosca. Un bambino lasciato nella ruota che gli hanno messo il nome Ettore Fieramosca. Guardate che nell'Ottocento non era così facile conoscere Ettore Fieramosca. Oggi già è più facile, ma all'epoca in pochissimi avevano letto il romanzo di D'Azzeglio, Ettore Fieramosca. Quindi mettere il nome ad un trovatello, che in genere erano nomi bruttissimi, come sconsolata, stillante, sventurato, proprio perché le suore davano questi nomi, perché sapevano che quei bambini venivano da situazioni illegittime per loro, che erano purtroppo degli sventurati. Ma anche cognomi strani come stillante. Non sono mai riuscito a capire che cosa... perché stillante? Stillante di... non so di che cosa. Ma comunque questi sono... O forse strillante perché... Ma io ho visto sempre dall'inizio stillante. Non so il motivo per il quale... ma poi in genere sono dei nomi che venivano dati in base al santo del giorno. E poi troviamo anche i paternoster, i dioguardi, tutti quanti nomi riferiti al mondo religioso tipico di chi riceveva questi bambini, ovviamente. Ecco, ci sono... adesso ci occupiamo di altre due questioni. La prima è tutto questo patrimonio viene gestito dal personale dell'archivio di Stato. Ma ahimè, il personale è sempre di meno. Soprattutto stanno venendo meno le figure degli archivisti, quelli manuali, quelli che proprio devono prendere... Gli apicali si chiamano quelli. Cioè le figure apicali dell'archivio sono gli archivisti. Esattamente. Devono proprio manutenere tutti questi documenti straordinari. Come si fa a rischiare di mettere appunto a rischio tutto questo patrimonio enorme e così importante? Allora, io dico... io sono stato l'ultimo, speriamo non per sempre, ma al momento l'ultimo direttore dell'archivio di Stato di Bari archivista. Perché l'attuale direttore, anche se ovviamente proviene dalla sovrintendenza archivistica, non ha come qualifica quella di archivista. È una situazione gravissima. Noi siamo partiti con una dotazione di 15 archivisti per l'archivio di Stato di Bari e le due sezioni. Ora non ne abbiamo più nemmeno uno. Quindi ce n'è uno che viene distaccato da una sovrintendenza della Basilicata, ed è a Bari, ma archivisti in organico, noi dovremmo averne 10 per Bari, Barletta e Trani, ma non ne abbiamo attualmente nemmeno uno. E questa è una situazione gravissima. E da qui nasce anche il discorso del perché io, andato in pensione il primo di agosto, il giorno 3 ho ricevuto decreto dalla Direzione Generale per prestare volontariamente il mio servizio di archivista presso l'archivio di Stato di Bari e subito dopo il direttore dell'archivio di Stato di Bari mi ha nominato referente per la Direzione di Bari per le sezioni di Barletta e Trani da seguire ovviamente. È una situazione gravissima. Rendiamoci conto che Bari era arrivata ad avere da 120 persone 26 dipendenti per tre sedi, cioè 0. Bari aveva 24 persone, Barletta e Trani un solo dipendente. Grazie al contributo fondamentale della Direzione Generale Archivi, oggi abbiamo la fortuna di avere quattro dipendenti a Trani e sei a Barletta. Una dotazione che neanche gli archivi del Nord possono vantare attualmente. Situazioni che sono gravissime perché ovviamente c'è un discorso di competenza. La cosa che mi dispiace è che anche se il Signore mi darà forza per, io per far avere un minimo di nozioni rispetto a quello che è il tesoro degli archivi avrei dovuto avere accanto a me dei ragazzi almeno per una decina d'anni, cosa che non ho avuto mai la possibilità. Quindi quando io staccherò ed andrò via nessuno potrà avere avuto la possibilità di avere un minimo di quello che ho imparato. Perché negli archivi si impara ogni giorno e quello è. Perché io infatti parlando con, e questo è un altro dei vanti che ha l'archivio di Stato di Bari, e cioè quello di avere una scuola di archivistica, noi sforniamo dei professionisti degli archivi, ma questi professionisti che fine fanno? Dopo che hanno finito il biennio, che oggi è diventato veramente un corso post-universitario importantissimo. Dove li collochiamo? Quando noi avremmo la necessità minima di avere in tutta Italia, io voglio dire una cifra minima, di 3.000 archivisti. Perché oggi noi non ne abbiamo più. Ed è una lamentela di tutti gli archivi. Generalizzata. Ma questo è il problema. Il problema è serissimo perché non si tratta di uffici obsoleti o inutili rispetto al futuro. In realtà, come abbiamo sentito prima, anche durante la pandemia è stata una manna dal cielo avere la presenza degli archivisti. Assolutamente. Perché ha consentito all'Italia di sopravvivere in un momento così drammatico. Ecco, l'altro problema a cui ci dobbiamo inevitabilmente collegare è che voi state vivendo una fase molto ibrida. Perché da una parte abbiamo questi documenti storici straordinari del 1400, del 1500, 1600, la storia delle nostre comunità, la storia delle famiglie, la storia degli edifici, la storia delle città. Dall'altra noi andiamo sempre più incontro ad una velocizzazione dell'archivio attraverso gli archivi telematici. Ecco, ovviamente non sono compatibili le due cose. Non sono anche riportando semplicemente tutti i documenti che avete, facendo la scansione. E l'archivio non è la stessa cosa. Ecco, ma come si vive questo dualismo tra il passato storico così straordinario ed un futuro così asettico come quello delle macchine? Allora, noi abbiamo, e questo è un altro grossissimo problema, che non sappiamo come risolvere questo, che è quello degli spazi. spazi. Noi non abbiamo più spazi, cioè i nostri depositi sono saturi in tutta Italia. Noi non abbiamo più nessun tipo di possibilità di prendere documenti come ci prevede la legge. La legge dice che dopo 30 anni noi dobbiamo ricevere i documenti prodotti dagli enti pubblici. Noi oggi abbiamo, io ho dovuto bloccare un po' di tempo fa tutti gli ingressi, i versamenti, così vengono chiamati, di documenti, perché nelle tre sedi, Bari, Barletta e Trani, non abbiamo più posto per mettere documenti. Rapportandomi prima con il carissimo amico, il presidente del Tribunale di Trani, ora in pensione, De Luce, il dottor De Luce, e poi con il presidente del Tribunale di Bari, ho detto ad ambedue, ho detto scusatemi, mi fate capire a che punto siamo con la dematerializzazione degli atti? Perché se andiamo avanti così, noi per altri cento anni dovremo prendere carte che attualmente non possiamo e non potremo prendere, perché anche se andiamo a creare delle strutture atte a ricevere, fra dieci anni saranno sature anche quelle. È il famoso cane che si morde la coda, perché fino a quando tu produci carta, io quella carta me la devo prendere, tu vai in qualsiasi ufficio, la prima cosa che fanno, qual è? Ti passano la cartuccella, riempila. Quella cartuccella io, fra trent'anni, la devo prendere per legge, ma oggi non ho nessun tipo di possibilità. E quello è il problema. C'è un principio che è l'incompenetrabilità dei corpi, una volta che si è raggiunto la pienezza dello spazio. Tant'è che, scherzando ovviamente, il Presidente De Luce mi disse, Michè, e che faccio? Io li butto in mezzo alla strada. Dici, Presidente, è la soluzione ottimale, potrebbe essere, ma purtroppo la legge non lo permette né a te né a me, perché io non posso tenere fuori da spazi addetti alla conservazione materiale archivistico, perché vado in galera, non per un motivo di conservazione, ma per un motivo di sicurezza. Cioè, voi non pensate, non immaginate qual è la difficoltà di aprire un archivio di Stato. Cioè, le incombenze e le prescrizioni sono enormi. Noi, anche la minima presa che dobbiamo mettere, deve essere autorizzata dai vigili del fuoco, perché deve essere a norma, sono delle incombenze giustissime. Ma è giusto perché, proprio perché rappresentano la storia di una comunità, non possono andare perso. Deve essere tutelata sia dal punto di vista della conservazione, ma dal punto di vista della sicurezza di chi ci lavora e chi viene lì. Quello è il discorso più importante. Quindi non si immagina che difficoltà è avere bello sistemato un archivio. Sono tantissime le incombenze. Qual è il rimorso che ha, diciamo, il rammarico, più che rimorso, nei suoi 40 anni all'interno dell'archivio di Stato? Rimorsi ne ho pochissimi, proprio perché io ho avuto la fortuna di essere, come dicevo prima, discepolo di uno che è stato l'innovatore degli archivi, il professor Giuseppe Di Benedetto, altro barlettano, che è stato direttore dell'archivio di Stato di Bari, ma poi è stato, avuto tanti incarichi come soprintendente archivistico, come direttore ad Interim, per esempio, dell'archivio di Stato di Lecce, è stato primo dirigente del Ministero. Io ho avuto la fortuna di affiancare il professor Di Benedetto, al quale l'anno prossimo spero, insieme con il direttore dell'archivio di Stato di Bari, l'avvocato Buzanca, di intitolare l'auditorium dell'archivio di Bari al professor Di Benedetto, ho avuto la fortuna di imparare che cosa vuol dire la nuova idea di archivio. Io quando sono entrato in archivio a Bari c'erano sei persone, sei persone che stavano belle, tranquille e stavano lì ad osservare i documenti. Gli archivi erano dei meri depositi molto polverosi. Poi c'è stato qualcuno che si è inventata la divulgazione e valorizzazione. Da lì è partita la nuova idea degli archivi, quelli che sono oggi. Cioè se noi non facciamo divulgazione e valorizzazione, torniamo indietro di 40 anni. Ed è quello che state facendo... E' quello che stiamo facendo ormai da più di 30 anni. Proprio perché è quello, la gente come è normale che sia, ci chiede spesso, ma voi che cosa fate negli archivi? E quello è importantissimo, portare fuori dagli archivi. Io proprio perché so le difficoltà delle scuole a portare da noi gli alunni. Vado io nelle scuole con idee bellissime come intervista all'archivista, che è molto semplice come idea che io ho avuto insieme con l'amico Nino Vinella e quindi abbiamo fatto per le diverse scuole del territorio, portando nelle scuole. E sono veramente stupefatto dall'attenzione che ho da parte dei ragazzi che difficilmente dopo due minuti partono i telefonini, ognuno per conto suo. Io ho avuto questa cosa, poi non ti dico quando incomincio a parlare degli alberi genealogici, il giorno dopo mi trovo tutti i ragazzi in archivio, mi fai l'albero genealogico della famiglia. Quindi la cosa importante è quella, cioè dell'impatto che si ha con chi tu hai a che fare, perché l'impatto porta poi a crearti curiosità nel sapere, ma l'archivio che cosa fa? Abbiamo parlato del rammarico, parliamo anche della soddisfazione. Qual è stata la più grande soddisfazione di questi 40 anni? Ma io posso dire l'ultima che ho avuto. Siamo stati ricevuti insieme come archivio e come UNCI, cioè l'Unione Nazionale dei Cavalieri d'Italia, un'associazione di insigniti al merito della Repubblica, siamo stati ricevuti da Sua Santità Papa Francesco. E ragionando con gli amici dell'associazione, con il Vice Presidente Vito di Bitonto, su che cosa donare? Abbiamo avuto questa idea di donare una copia, no magari, quello sarebbe stato bellissimo, anche perché lui qui sta, quindi lo potevamo fare. Gli abbiamo donato una copia della pergamena della famosa processione del Venerdì Santo a Barletta, cioè quella processione nasce da una bolla papale. Quando siamo andati e lì più di 5 secondi non si può stare se c'è il cerimoniere che quando ti avvicini a Sua Santità ti toglie subito il dono, se c'è dono, baci la mano al Papa e devi andare via perché sono tanti. Io quando mi sono avvicinato ho detto Santità vorrei illustrarle il dono che le sto facendo. Il Papa, grazie, ha alzato la mano ed ha bloccato il cerimoniere. Siamo stati la bellezza di 5 minuti a parlare su quello che stavo dando. Alla fine ho avuto la soddisfazione che Sua Santità mi ha detto, sa che non sapevo di questa cosa, cioè del fatto che quella processione è una delle due uniche al mondo che viene, che porta Gesù sacramentato il Venerdì Santo, cioè Gesù vivo il giorno del Venerdì Santo quando è morto in processione, perché tutte le altre processioni sono quelle dei misteri, cioè statue. E il Papa mi dice, non lo sapevo. Ho detto, Santità, guardi, io la giustifico appieno perché non lo sanno nemmeno da dove vengo, figuriamoci se poteva saperlo lei. È stata veramente una bellissima esperienza che mi ha gratificato tantissimo e che mi ha fatto capire come l'importanza di far conoscere ciò che viene conservato negli archivi. Quindi bellissimo il discorso di lavorare in un archivio se si ha veramente la passione di farlo. Proprio perché si scoprono tantissime cose ogni giorno, anche dopo 45 anni. Io scopro tante cose ancora oggi. Per chiudere, c'è futuro per gli archivi? Secondo me sì. Se si continua a dare importanza come si sta facendo e come ha fatto, lasciatemelo dire, la dottoressa Buzzi che è andata in pensione, è stata una degli artefici, ma io potrei citare anche i direttori generali precedenti alla Buzzi come anche il dottor Scala, importantissimo, che hanno puntato tutto e tanto sugli archivi. Io penso sia veramente il futuro della cultura, proprio perché tanto si sta perdendo. La famosa tradizione orale ormai è diventata rarissima, perché non avendo avuto lo scarico, fatemi passare questo termine brutto, ma che dà l'idea, lo scarico delle notizie da una generazione all'altra, l'unico modo per sapere qual era la nostra vita un po' di anni fa sono gli archivi. E allora noi ringraziamo davvero di cuore Michele Grimaldi, archivista di Stato, già direttore dell'archivio di Stato di Bari con le sezioni di Barletta e Trani, perché ci ha spalancato una finestra su un mondo che molti non conoscono e che veramente potrebbe rappresentare il cuore pulsante della cultura dei nostri territori. Grazie davvero di cuore e grazie al nostro pubblico che ci ha seguito, come sempre. Grazie a tutti, buonasera. Grazie a tutti.